Un'ottima notizia per la cultura in città. Il Comune dell'Aquila sosterrà infatti la campagna di indagini archeologiche sul sito di Amiternum, condotta dall'Università dell'Aquila, su concessione della sovrintendenza archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Aquila e il Cratere, con un impegno economico di 25.000 euro. A deciderla è stata la Giunta Comunale, accogliendo una proposta del Sindaco. Attraverso questo atto deliberativo, preliminare ma fondamentale ai fini del percorso, ha detto il Sindaco, l'Aggiunta si è determinata a sottoscrivere un accordo finalizzato alla valorizzazione dell'area per la durata di tre anni, condividendone e approvandone linee programmatiche di base. Siamo già a lavoro con l'Università e la sovrintendenza, ha chiarito, per la predisposizione dell'accordo attuativo, che andremo a sottoscrivere a breve. L'area interessata dalle indagini archeologiche dell'Università è quella già oggetto di ricerche recenti, dalla quale sta emergendo l'antica cattedrale di Amiternum, di epoca tardo-antica. Si tratta di un sito che può ancora riservare scoperte molto interessanti e utili a indagare la storia dell'antica città Sabina di Amiternum, con particolare riferimento alle ultime fasi di vita dell'abitato, spostate in avanti di diversi secoli rispetto alle informazioni che si avevano, proprio grazie ai risultati delle campagne di indagini archeologiche condotte negli ultimi anni. La sinergia con l'Ateneo, in particolare con il Dipartimento di Scienze Umane e la sovrintendenza, che andremo a strutturare, detto Biondi, con la sottoscrizione dell'accordo attuativo, riveste un'importanza strategica nell'ambito delle politiche di valorizzazione del territorio, affini culturali e turistici, promuovendo e implementando la conoscenza di un'area archeologica che racconta una pagina straordinaria e inedita della storia e del passato millenario. Il sindaco ha voluto ringraziare la sovrintendente Alessandra Vittorini e la sua struttura, la rettrice uscente Paola Inverardi, il direttore del Dipartimento di Scienze Umane Simone Gozzano, il professor Fabio Redi, che ha diretto le precedenti campagne di scavo, e il dottor Alfonso Forgione, che ne ha raccolto il testimone.